Ok ragazzi, seconda parte, siccome il Royale era critical, è stato buttato fuori, è questo qui adesso Eh, è questo qua che sta in manca Un po' scarsino, sì Entra subito Arriba Biggy Show No, 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 no i maroni io non ho preso lo sconto da notare royale il wrestling è una cosa bellissima no 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 facciamo un patto io ti ammazzo e tu mi lasci bel patto aiuto ok raga ha solo due possibilità lui per ridere troppo raga il wrestling è bellissimo aveva solamente due possibilità royal fuori abbeccate questo zio va bene raga fai l'intro dai veloce bene ragazzi per questo video vabbè lo faccio io concludo il video qui ragazzi arriviamo a 3 mi piace se volete un nuovo video di wrestling lui vi ringrazia un sacco veloce che siamo arrivati a 3 minuti il tuo telefono non ce la fa ebbene sport lasciate ok ok ok